bella a tutti ragazzi noi siamo i che frate e oggi siamo i compagnia di e oggi siamo qui con i piccoli video che cazzo siamo qui al cuore al passaggio a cagare 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 in meri Siamo già messi i canali Lele, Lele, Lele Vai Lide che è senza delle schiale vobbi Aspetta, aspetta Lele Lele, aspetta Lele Aiuto Podcast Lasciamo 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 Lasci Lasciamo Sì, mi fai il bacio, che troppo ti sfingalo. Sei fatti. Sì, mi fai il bacio. Eee, vabbè, vabbè. Ok, ciao di Chanel, cantinato ma senza il gel, sto con la sozza ma c'ho una bosta che non ricordo perché perché, perché, ma hanno fatto anche il Montclair, Montclair, Montclair Ma è Lido che sta lavorando la bocca Perché, perché, ma hanno fatto anche il Montclair, Montclair, Montclair Come è bello stupo al mio ragazzo Lido, stai bene 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 Lutto Luzio Grazie a tutti.